Scusatevi, stiamo qua per assolutare il candidato Siderago e per dare il numero... Scusatevi, stiamo qua per dare il candidato Siderago e per dare il candidato Siderago e per dare il candidato Siderago e per dare il candidato Siderago. Scusatevi, stiamo qua per dare il candidato Siderago e per dare il candidato Siderago e per dare il candidato Siderago. Scusatevi, stiamo qua per dare il candidato Siderago e 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 per dare il candidato Siderago Noi siamo invenimenti tutti i bambini. Allora noi ci dobbiamo appoggiare la democracia e il potere di questa città che prende il progettivo e noi non la facciamo. Ci siamo tutti, con le progetti, con i chiari, con le partagere che ci siamo. Ci siamo stancati, ci siamo stancati, salve, col vero centro della parola. Non abbiamo possibilità di pagare un piggione, un piggione, un piggione, un po' l'essere saltata con luce gatti, separazione tra marina e morte, non c'è pace in famiglia, non c'è amore, non c'è niente più in campanile. Grazie a tutti. Tutti i quali ci conoscono, tutti i concessi, abbiamo una pancia, io sono robusta, ma vieni, vieni, ti provi, mio marito aveva 4 anni, 4 anni, ma per la parola il mio amico la proviscia. Questo è quello di essere una delle regioni con il maggior tasso di risoluzione in Europa. Da molti mesi ormai l'USB, Unione Sidacale di base, il nostro coordinamento di lotta per il lavoro, ha presentato un piano comunale per il lavoro. In questo sottolineiamo il fallimento post-industriale degli anni 50, che ha prodotto questioni di tipo sociale e di tipo economico, con l'affermarsi di una cura certezza, povertà e allontanamento delle prospettive di sviluppo dello Stato sociale. E senza che la distribuzione della ricchezza potesse essere garantita, di conseguenza l'affermarsi nell'articolo 1 della Carta Costituzionale scritta col sangue dei nostri padri fondatori. La nostra piattaforma integra proposti di vario genere, dal via Europa, dalla cittadella del benessere, oculo commerciale, cattone ambiente, isole ecologiche, per differenziata, portaposta per differenziata, intero cittadino comunale, per il quale il nostro coordinamento sono mesi che ha il risultato di una vendizione popolare con più di tre mila firme. Stiamo continuando solitamente prima queste elezioni, inoltre volevo dire che stiamo sconcertati di questi eventi che i nostri occhi sono costretti a subire, le nostre orecchie a durire, con violenza inaugurita, quello che siete in questi giorni indecifrati. Urliamo appellandoci al diritto numero uno, lavoro, lavoro, lavoro. Grazie.